Estate di lavoro alla Sambonet dove si prepara a Novara il rilancio della Rosenthal, la storica casa tedesca delle porcellane che è appena stata acquisita dalla Sambonet. Quando tutti guardavano alla Cina e ai paesi dell'est, alla Sambonet, 150 anni di storia alle spalle, hanno scelto di mantenere le radici in Piemonte, continuando a investire e produrre nello stabilimento di Orfengo, al confine tra Vercelli e Novara. Da qui coltelli, forchette e cucchiai arrivano sulle tavole di ristoranti e hotel di Mezzomondo, dall'Hilton al Four Season, così come Pentole e Vassoi. E ora la Piemontese Sambonet è pronta a rivitalizzare la tedesca Rosenthal, acquistata un mese fa. È stato un agosto di lavoro in Italia e in Germania per preparare il rilancio delle storiche porcellane. Significa una perfetta integrazione di prodotto. Noi in questo momento siamo presenti nella tavola con la metalleria, con la parte in acciaio. Rosenthal si indegra perfettamente, potendo offrire il prodotto in porcellana, in questo caso vediamo anche la tovaglia, il vetro, perché Rosenthal è anche molto importante come produzione di bicchieri di alta gamma. Rosenthal è un marchio fortissimo in forte difficoltà però. Preoccupato? Preoccupato no, sappiamo che c'è molto da lavorare e lo stiamo già facendo. L'esperienza non manca, Paderno e Sambonet erano in crisi, i fratelli Coppoli hanno rimesso in pista. Certo, i tempi sono cambiati, la concorrenza cinese e turca è sempre più agguerrita. Possono avere costi più bassi dei nostri, ma noi comunque siamo al momento nettamente superiori come ideazione dei prodotti. 250 dipendenti e 68 milioni di fatturato alla Sambonet. Rosenthal ha 1100 lavoratori, ma appena 130 milioni di fatturato. I conti della società appena acquisita non sono brillanti, ma nel quartiere generale di Orpengo sono convinti che il design italiano darà nuovo smalto alle porcellane tedesche.